Si è vissuto al di là delle proprie possibilità, poi un giorno ci si è accorti che la crisi non poteva essere combattuta con il solito finanziamento. E' tutta qui, o quasi, la spiegazione del grave momento di contingenza economica attraversata dal Paese. Certo, c'è una grande pressione fiscale, ci sono i licenziamenti e la disoccupazione, ma c'è comunque la continua corsa all'ultimo gadget tecnologico. Una realtà che mette in serio pericolo, si ripresenta infatti lo spettro dell'usura. Dover balenato nella testa della gente, di poter vivere al di sopra delle proprie possibilità economiche, con finanziarie a tutto spiano. Non c'è nulla che fino a qualche anno fa si poteva ottenere, tutto si poteva ottenere attraverso dei mutui finanziari. Ma fino all'indibitamento vero e proprio, non poter più pagare e poi onorare questi finanziari. E molte volte la gente si ritrova a dover chiedere a persone che purtroppo vivono nella nostra società, si nascondono dietro al volto di persone anche per bene, dove purtroppo c'è poi la piaga dell'usura. Chi purtroppo si trova nella situazione di non poter più pagare fitti di casa, utenze domestiche e anche i mutui contratti nel tempo, si rivolge poi a chi non dovrebbe mai rivolgersi a quelli che sono gli usurai. Purtroppo è una piaga anche nell'agro nocerino sarnese che va sempre più crescente. Davanti alla non capacità di poter far fronte alle spese familiari, la gente si rivolge laddove può ottenere anche un'isola felice. Attenzione dunque a queste false isole felici. Per questo si punta ad una rete di centri di ascolto sempre più formata e pronta ad accogliere. Il mio appello è anche che ci sia la carità, ma che sia anche una carità ben strutturata e organizzata, perché anche nelle parrocchie possano nascere dei veri e propri centri di ascolto che siano pronti anche a fronteggiare, anche con dei servizi, le persone. Oggi la gente chiede anche solo l'ascolto. Grazie. 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 Grazie.